Buon pomeriggio Prima H e ben ritrovati. Quest'oggi invece della consueta pillola di latino cambiamo argomento e dedichiamo alcuni minuti ad un breve video di storia per un breve approfondimento di un argomento di cui ci siamo già occupati questa mattina in classe. Stiamo studiando la guerra del Peloponneso, quel lunghissimo conflitto antico che ha viste contrapposte Sparte e Atene dal 431 avanti Cristo al 404 avanti Cristo, e abbiamo visto come all'incirca metà della guerra, cioè nell'anno 416 avanti Cristo, ebbe luogo un episodio minore ma significativo. Come sapete gli Atenesi chiedono agli abitanti di una piccola isola greca, l'isola di Melo, di entrare a far parte della loro coalizione della Lega dell'Ioattica, ma i Meli si rifiutano di accettare questa richiesta giunta da parte degli Atenesi. Il grande storico Tucidide, che come sapete viene da Atene, nel suo capolavoro La guerra del Peloponneso, dedica alcune pagine a questo episodio, all'interno del quinto libro dell'opera, e il nostro manuale di storia, a pagina 242, ci propone un estratto da questo brano molto famoso. Lo leggiamo e lo commentiamo brevemente insieme quest'oggi per mezzo di questo video di storia. Il testo dice così. I primi a parlare sono gli Atenesi, che, giunti sull'isola di Melo con i loro ambasciatori, fanno queste affermazioni rivolte agli abitanti dell'isola. Orbene, per quanto ci riguarda, noi non faremo un discorso lungo e poco convincente, ornato, cioè abbellito, di palore affascinanti, sostenendo che è giusto per noi avere un impero perché abbiamo sconfitto i persiani, oppure che ora esercitiamo il diritto di rappresaglia perché abbiamo subito un torto. Così come non consideriamo un vostro diritto pensare di persuaderci, cioè di convincerci, sostenendo di non avere partecipato con noi alle spedizioni perché siete coloni degli spartani. Come dicevamo in classe, Melo è una polis di origine spartana. Oppure che non ci avete fatto alcun torto. Cosa dicono fin qui gli Atenesi? Cari Meli, potremmo proporvi tutta una serie di considerazioni razionali, concrete, per provare a convincervi del fatto che abbiamo ragione noi, che ci dovete qualcosa, che dovete entrare a far parte della nostra alleanza, ma non è questa la nostra intenzione. Riteniamo invece legittimo cercare di ottenere quello che è fattibile in base alle vere intenzioni che ciascuno di noi ha, perché come noi anche voi sapete che nel linguaggio umano il diritto si giudica a parità di condizioni, altrimenti i potenti fanno quello che possono e ai deboli. Tocca dichiararsi d'accordo. Qui gli Atenesi sono estremamente concreti, pragmatici e molto cinici e dicono se fossimo a parità di condizioni potremmo discutere fino all'infinito. Però non siamo a parità di condizioni, è evidente che noi siamo i potenti e voi, abitanti di questa piccola isola, siete i deboli. E dicono esplicitamente così. I potenti fanno quello che possono, nel senso tutto ciò che in loro potere fare, ai deboli invece tocca dichiararsi d'accordo, cioè devono obbedire. Gli Atenesi in sostanza non propongono grandi ragionamenti, propongono la legge del più forte. Il più forte si impone naturalmente sul più debole. Sentiamo ora la risposta degli abitanti degli isola di Melo, che provano a ribattere così. Anche noi, siatene certi, pensiamo che sia difficile competere con la vostra potenza e con la fortuna se essa non sarà imparziale. Malgrado tutto abbiamo fede che non soccomberemo per la fortuna che dipende dalla divinità, perché rispettosi degli dei ci opponiamo a degli ingiusti. Come vedete, l'argomentazione dei Meli è molto più breve di quella degli Atenesi. E i due popoli stanno parlando un linguaggio completamente diverso. Vi ho riportato a video una parte dell'affermazione degli abitanti dell'isola di Melo che abbiamo appena letto. rispettosi degli dei ci opponiamo a degli ingiusti. Le argomentazioni sono di carattere religioso, ritengono di avere gli dei dalla loro parte, di comportarsi in maniera devota, religiosa, e di opporsi a delle persone che si stanno comportando ingiustamente. Ci opponiamo a degli invasori che secondo noi sono persone ingiuste. Dunque le categorie che stanno utilizzando i Meli sono di carattere religioso e di carattere religiale. Gli Atenesi, abbiamo visto prima, invece utilizzano categorie completamente diverse. Le categorie della politica, del potere, della forza bruta, della violenza, insomma la legge del più forte. E lo ribadiscono nella loro risposta, che chiude il brano proposto dal nostro libro. Gli Atenesi replicano in questo modo. Quanto ai buoni sentimenti verso la divinità, nemmeno noi supponiamo che ci siano venuti meno, giacché con le nostre richieste o con le nostre azioni non facciamo assolutamente nulla che contrasti con la credenza degli uomini nella divinità, né con la loro volontà di decidere il proprio destino. Perché siamo convinti che tanto l'uomo che la divinità, dovunque hanno potere, ecco torna la parola di prima, nel potere, lì lo esercitano. L'uno apparentemente, l'altro visibilmente e per sempre per un insopprimibile bisogno della natura. Ecco, secondo gli Atenesi, la legge del più forte è una legge di natura. E non siamo stati noi che abbiamo imposto questa legge, né siamo stati i primi ad applicarla quando già esisteva. Essa esisteva quando noi l'abbiamo ereditata ed esisterà in eterno, quando noi la lasceremo in eredità. E dunque l'applichiamo consapevoli che anche voi, come altri, agireste esattamente come noi se aveste la nostra stessa potenza. Ecco, secondo Tucidide Ateniese, il linguaggio degli Atenesi. Un linguaggio basato sugli argomenti del potere, della forza, del diritto del più forte. Notevole quest'ultima affermazione. Anche voi, cari nemici, cari abitanti dell'isola di Melo, secondo noi, come farebbero anche altri, fareste esattamente la stessa cosa che stiamo per fare noi, cioè utilizzare la forza bruta, se aveste la nostra stessa potenza. Come a dire, chi è in posizione di forza, in questo caso Atene, non ha bisogno di appellarsi alla religione oppure alla morale, esercita il diritto della violenza, della forza, del più forte. Viceversa, chi, come i Medi, si trova in una posizione di debolezza, di inferiorità, utilizza argomentazioni di tipo morale oppure religioso. Come ovvio, questo è un brano storico, ma in realtà soprattutto letterario, noi non sappiamo che cosa si siano realmente detti gli Atenesi e i Medi. Tucidide ricostruisce in questo modo, utilizzando probabilmente anche un po' di fantasia, la vicenda. Come finì realmente nella storia questo episodio? Nel 416 a.C. gli Atenesi utilizzarono la forza, il pugno di ferro, e si imposero con la violenza. Invasero l'isola di Melo, uccisero gli uomini, gli abitanti maschi dell'isola, e decisero di vendere come schiavi le donne e i bambini. In sostanza la popolazione fu sterminata oppure ridotta in condizione di schiavitù. La legge del più forte, in questo caso, viene realmente applicata. Un piccolo episodio da una guerra importante che ci aiuta a riflettere, come diverse volte abbiamo fatto in classe, anche per educazione civica in queste ultime settimane, sul fatto che quando parliamo di democrazia nel mondo antico, di democrazia ad Atene, dobbiamo fare estremamente attenzione ad utilizzare questo termine, non pensando che la democrazia degli antichi fosse la stessa identica cosa della democrazia come la intendiamo noi oggi nel mondo moderno. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci!